Le alte temperature, dunque il caldo, la siccità stanno creando problemi notevoli sia all'agricoltura e dunque alle produzioni agricole. Una di queste è rappresentata anche da una burocrazia che purtroppo penalizza ulteriormente i nostri produttori agricoli. Pensate che il pomodoro san marzano non potrà essere raccolto se non prima del primo agosto. In realtà il prodotto è pronto per arrivare nelle aziende di trasformazione ed è per questo che i produttori, gli imprenditori agricoli e le associazioni di categoria hanno chiesto una deroga al disciplinare europeo. Il disciplinare recita che tu puoi iniziare la trasformazione dal primo agosto fino al 30 settembre a meno che non ci siano condizioni climatiche avverse. Ci siamo già attivati presso il consorzio di tutela che ha fatto un'istanza al Ministero e quindi di conseguenza all'Unione Europea per anticipare almeno di una settimana, dieci giorni. Perché ci consente il Ministero, e aperto a questo anche gli altri anni l'abbiamo fatto, quando ci sono condizioni climatiche di caldo e torrido possiamo anticipare la campagna di una settimana, dieci giorni prima. Avevamo dei campi già pronti e quindi abbiamo chiesto, visto che i nostri agronomici tengono informati giorno per giorno su tutto quello che succede in campagna, abbiamo chiesto all'istituto che certifica il San Marzano Agroqualità di concerto con il consorzio di anticipare la campagna di trasformazione. Che campagna sarà quest'anno? Io sono ottimista, perché è lo spirito che mi contraddistingue. È chiaro che ci sono stati dei problemi all'inizio, nella prima fase del trapianto, condizioni climatiche avverse, molto freddo, abbiamo avuto dei campi che all'inizio si sono persi, poi abbiamo ritrapiantato, però al momento la condizione è buona e quindi ci auguriamo di fare veramente un bel prodotto. Io credo che più del 40% dei pomodori siano maturi. Allora che cosa succede? Che per il disciplinare imposto dalla comunità europea, a seguito anche della visita degli ispettori dell'ISMA, certi che dicono quanto vuoi cogliere e quanto vuoi prendere questi pomodori, Adesso gli agricoltori si trovano nella necessità di non mettere neanche, di cogliere neanche un pomodoro, perché se loro prendono i pomodori e li portano nell'industria, li tornano indietro, perché il disciplinare dice che questi pomodori devono essere trattati in un periodo dell'anno che comincia dall'agosto. Allora io mi chiedo se la burocrazia è questa e se noi non veniamo incontro a questi agricoltori, io stamattina ho parlato di agricoltori che producono San Marzano da una vita, il quale Pauretto era disperato, dice io se non riesco a vendere questi pomodori che sono già maturi il 30% all'industria, io ho una perdita economica, io a fine d'anno riesco appena a prendere i soldi che ho messo per la coltivazione, con tutti gli annessi e i connessi che servono per coltivare il pomodoro, quindi in effetti considerate che coltivare il pomodoro in pieno solo con questa temperatura, anche da un punto di vista fisico, anche da un punto di vista materiale, quindi impone effettivamente grossi sacrifici, allora limitare anche la vendita, limitare l'economia tutt'ora con questa burocrazia mi sembra assurdo. Io spero che chi deve intervenire, ma lo intervenga in due o tre giorni, non possiamo aspettare ancora 10 giorni perché considerate che il pomodoro maduro San Marzano ha questa caratteristica che appena lo tocchi cade. Il prodotto comunque è buono? Il prodotto è buono, anzi in questo periodo, in questo momento è buono, noi l'abbiamo visto, l'abbiamo aperto, è bello succoso, quindi è un pomodoro che si può già tranquillamente trasformare nelle industrie conservate. Anche perché le aziende sono pronte, quindi bisogna solo dare il... Le aziende sono pronte, adesso la risposta aspetta la burocrazia.